Pieroni fa il mio nome per tenervi buoni, non sono mai arrivate offerte. Così Floro Flores dal suo profilo Twitter risponde a un tifoso amaranto e sembra far intendere che non ci sia mai stata alcuna trattativa per riportarlo ad Arezzo. A leggere queste frasi non era tanto dunque la possibilità per Floro di giocare almeno in Serie B, ma a fare la differenza è stata la mancanza della materia prima, cioè l'offerta dell'Arezzo. Non dovete corteggiarmi, io amo Arezzo, scrive Floro, però se non fanno le offerte non devi prendertela con me, ma con Pieroni che fa il mio nome solo per tenervi buoni. Offerte probabilmente no, al massimo ci sarà stato qualche contatto, ma tanti tifosi avevano sperato o meglio sognato nella fiaba del suo possibile ritorno. È lui stesso a chiarire la sua posizione, chiamato in causa direttamente anche per smorzare possibili interpretazioni sbagliate. L'Arezzo probabilmente cerca comunque un attaccante che magari possa garantire un certo numero di gol, un cecchino di categoria e tra i giocatori senza contratto è possibile che ci sia anche qualche affare e si può ancora mettere a segno. Per trovarlo c'è tempo ancora, fino al 31 agosto, scadenza entro la quale dovrà anche essere sfoltita una rosa che oggi ha un numero di giocatori decisamente eccessivo rispetto alle esigenze. Grazie a tutti.